Lo spread sale. A Piazza Affari si festeggia la stagione delle trimestrali, ma sullo sfondo rimane la questione più importante. Alzerà i tassi di interesse la Banca Centrale Europa nel 2022? Vediamo il punto di vista dei protagonisti di House of Trading. Allora, la prima strategia è una carta verde. È un long sul nostro Futsimib. Futsimib che ha reagito su quelli che erano appunto i livelli chiave nel breve, ovvero il supporto a 26.200 punti. Io qui mi aspettavo, l'avevo già detto nei giorni scorsi sul mio blog, su questi livelli mi aspettavo una ripresa delle quotazioni. Infatti qui il mercato è riuscito a fare una buona base di accumulo e quindi abbiamo visto un modello a doppio minimo completato poi questa mattina, insomma con il break di quota 26.650 punti. In realtà il mercato è già scappato, stava in questo momento battendo livelli vicino a quota 27.000 punti. Questo è un'operazione in buy limit, quindi qualora magari ecco non oggi ma magari nelle prossime sessioni il mercato dovesse andare a ritestare con un pullback, come spesso accade, il livello di rottura e quindi il livello di completamento di questo pattern rialzista. Qui andremo a posizionarci long, il nostro stop è posizionato proprio a quota 26.200 punti, quindi al di sotto di questa base di accumulo e il target è a quota 27.200 punti. Ti è piaciuta questa strategia? Bene, iscriviti al canale BNP Paribas, attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dai trader e degli analisti che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17.30 ad House of Trading. Grazie a tutti.